Quanti riaprono le sedie del partito, soprattutto i rinnovatori o i combattenti, ma anche alcuni squadristi, quelli diciamo semmai meno violenti o facinorosi, vorrebbero che il partito si facesse carico dei combattenti di guerra e delle loro famiglie, se ne facesse carico si prendesse cura di loro e denunciando che nel ventennio questo non era avvenuto, non c'era stata giustizia, non c'era stata redistribuzione e così via. Per cui c'è una volontà da parte di molti di loro di far finalmente funzionare le cose e dunque assumono queste prerogative, in alcuni casi anche per avere un controllo totalitario di tutto, di qualsiasi attività, dall'altro perché pensano che possono far meglio, che loro conoscono le situazioni e finalmente il militare che è in guerra, il militare eccetera eccetera, la famiglia verrà ben trattata oppure gli si daranno questi fondi per tempo e non facendoli troppo aspettare. Tutto ciò fa sì anche nel marasma successivo all'8 settembre del 43 che il partito si faccia carico anche dei problemi dell'assistenza, creando, cioè passando dal sistema legato agli enti comunali di assistenza, cioè gli ECA, passando agli enti comunali fascisti di assistenza per quanto riguarda i comuni e così per le province, quelli provinciali, gli enti provinciali fascisti di assistenza fino a quello centrale, ente l'Enfa, ente nazionale fascista di assistenza con tutto un organigramma e così via. Andrebbero fatte analisi approfondite sugli archivi per vedere come ha funzionato questo sistema rispetto a quello precedente legato agli ECA per dire, perché non è facile dare una risposta su tutto il territorio, come ha funzionato, possiamo dire loro cercano di impostare questo, da parte di alcuni c'è una grande volontà di far bene, di fare in modo che non ci siano più gli speculatori, il mercato nero e quindi i borsaneristi, quindi intervengono, fanno azioni, a volte le squadre agiscono in quel senso che vanno a recuperare tipo nel Reggiano, nel Modenese, vanno a recuperare nel Parmense delle forme di Parmigiano che erano state sottratte a scopi lucrativi e quindi loro agiscono, conoscono, cioè sono legati al territorio questi squadristi e quindi certe squadre di partito agiscono con questo tipo, facendo questo tipo di requisizione, un tipo di requisizione che sembra, perché non è che abbiamo tutto però, sembra sia legata al fatto di volere finalmente farla finita con questi profittatori per una distribuzione più equa alla popolazione, però le lamentele sono tante e quindi si dovrà soprassedere con questo tipo di attività squadristica legata anche al recupero di beni della borsa nera per una distribuzione alla popolazione, invece continua l'assistenza fascista, si cambiano tutte le carte, infatti è impressionante anche tutta questa burocrazia che in tutto questo contesto di violenza, di caos, di sfiducia reciproca, di gruppi armati che si creano uno legato a uno all'altro però c'è una burocrazia che non finisce più. Che cosa si crea poi nel caos generale di questa esperienza della Repubblica Sociale Italiana? Si ingenerano delle sovrapposizioni perché man mano che il Sud viene liberato dalle truppe anglo-americane alcuni si spostano, alcuni fascisti, famiglie e così via si spostano progressivamente verso il territorio ancora gestito dalla Repubblica Sociale Italiana e quindi ci sono quelli che loro chiamano i profughi e quindi c'è la questione dei profughi tutti questi che non hanno casa partono con pochissimo, hanno pochissimo e devono essere sistemati questa la gestione dei profughi la vuole gestire in prima persona il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Barracu e quindi lui crea l'ente profughi, quindi nasce un altro ente accanto appunto all'ente nazionale fascista di assistenza nasce anche questo ente nazionale profughi con anche lì dovrebbero esserci le diramazioni locali. È chiaro che diventa una situazione difficilmente gestibile perché questi vengono al centro nord e poi alla fine solo al nord ma chi se ne deve far carico, quali sono gli uffici che se ne devono far carico e qui chiaramente diventano gli uffici quelli che erano i vecchi uffici comunali di assistenza che sono loro che hanno tutto, hanno sempre gestito questi eventi che qui sono ingigantiti. Allora nascono delle sovrapposizioni, delle sovrapposizioni, anche delle tensioni perché indubbiamente una volta che arrivano i fascisti poi dal sud e poi dopo dal centro il partito chiede un occhio di riguardo per costoro e quindi questi enti dovranno farsi carico soprattutto di questi anziché dello sfollato o il sinistrato per bombardamento o del familiare del soldato prigioniero di guerra per eliminare la gestione del partito sull'assistenza. Si approfitterà nel giugno del 44 quando dopo che il fascismo ha perso Roma, hanno perduto Roma e lì c'è un fuggifuggi generale, c'è uno squagliamento della milizia, uno squagliamento dei carabinieri, uno squagliamento anche del partito, uno squagliamento dell'esercito. Di fronte a questo Mussolini decide di dar vita alle brigate nere e le brigate nere servono sia alla lotta contro la resistenza ma anche a inquadrare tutti questi fascisti che vengono dal sud, dandogli uno stipendio, inquadrandoli in un corpo militare. Nel servizio asiliario femminile, nato nell'aprile del 44, poi per certi servizi si inseriranno le donne che vengono, le profughe cosiddette, quante vengono dal sud, le fasciste che vengono dal sud. Dunque è un modo anche per dargli un sostitamento, per dargli dei soldi dello Stato. E si approfitterà appunto di questo momento eccezionale in cui il partito viene chiamato a dar vita alle brigate nere e quindi a diventare partito armato, abbandonando tutte le competenze extra politiche, tutte le altre incombenze che aveva gestito fino a quel momento. Il significativo è che in questo mese di giugno abbiamo una serie di decisioni che vanno tutte nella direzione di riprendersi da parte dello Stato, da parte del Ministero dell'Interno e così via, tutta la gestione dell'assistenza, anche se resta quello di Barracule, internazionale, interprofughi e di sottrarre al partito una serie di competenze perché dicono sono pleonastiche, l'impegno del partito deve essere un impegno politico o in questo caso militare, quindi viene militarizzato e ancor più gerarchizzato, gerarchizzandolo come un corpo militare. Si superano tutte quelle richieste, in alcuni casi non solo richieste ma realtà, di assemblee in cui si discutesse della linea politica, quindi è la seconda sconfitta di quanti volevano i rinnovatori o i sindacalisti, quanti volevano invece procedere con questo tipo di struttura, in questo caso anche di una parte degli squadristi, perché anche gli squadristi si vedono messi in un ordine gerarchico in cui non possono più far valere le loro prerogative di primi, di quelli che hanno dato vita al movimento fascista. L'estate è un momento clou, si teme che tutta l'Italia venga liberata dalle truppe anglo-americane, temono la scomparsa di tutto il territorio della Repubblica Sociale, quindi temono proprio che ci sia la liberazione totale del territorio, perché gli alleati vengono su molto velocemente da metà maggio quando sfondano la linea di Cassino, il 4 giugno sono a Roma e poi a luglio sono in Toscana, quindi è velocissimo. I tedeschi per sistemare la linea gotica fanno tutte le stragi che fanno e le fanno proprio per rallentare questa avanzata celere e lì proprio si capisce che c'è il terrore, cioè c'è il terrore, nella Repubblica Sociale Italiana si diffonde il terrore, perché? Perché il generale Alexander ha chiamato i partigiani a intensificare la lotta partigiana dicendo siamo alla liberazione insomma e quindi i partigiani danno addosso ai fascisti e questi qui chiaramente sono spaventati e sono spaventati perché non sono molti, loro si ritengono male armati, non armati a sufficienza per poter resistere e quindi si appellano a Mussolini e Mussolini crea le Brigate Nere perché Kesselin avrebbe dato, insomma ha dato non tanto carta bianca a Pavolini ma gli ha garantito che se lui crea un corpo di persone sicure, affidabili eccetera le avrebbe armate. Quindi quello è un momento di grande terrore, al terrore cercano di rispondere col terrore, col terrore delle Brigate Nere perché le Brigate Nere devono essere composte dai fascisti più fascisti, cioè fascisti convinti, devono essere fedeli all'idea e al giudice e quindi combattere col principuo scopo di combattere contro la resistenza e i suoi complici dove sotto complici ci sta tutto. Contestualmente tutti gli altri incombenze che doveva gestire il partito vengono chiaramente abbandonate e qui resta solo lo Stato. E laddove c'è un podestà che cerca di tenere un po' sui podestà che gestiscono, un capo della provincia che non sia, che gestisce.